Un accordo Presidente per valutare e valorizzare ulteriormente il rapporto sinergico tra protezione civile regionale e esercito italiano per quanto riguarda il settore della protezione civile. Un accordo molto importante, già oggi di istituto le forze armate intervengono e concorrono alla protezione civile quando ci sono eventi drammatici o grandi flagelli di terremoti, alluvioni. A volte però questo intervento non è pienamente coordinato, ci sono difficoltà nella catena di comando e decisionale per individuare il modo e la maniera, oltre che la copertura delle spese, di questo tipo di interventi. Oggi noi, migliorando la collaborazione che c'è sempre stata e che ha avuto dei momenti anche particolarmente intensi, è stato ricordato in conferenza stampa dal prefetto la vicenda del velino, dei dispersi dei quattro giovani morti sul velino, in cui in quei giorni la sinergia tra tutti i corpi, sia civili che militari, volontari e istituzionali fu davvero molto intensa e profonda, però anche quel caso ci ha aiutato a prendere lezione da ciò che era accaduto, capire cosa poteva essere migliorato. Oggi il frutto di questo lavoro, di questa collaborazione istituzionale è in questo protocollo che stabilisce una procedura codificata di intervento, di collaborazione, di entrata in campo delle forze armate al fianco della protezione civile, con il coordinamento delle prefetture e questo io credo che aiuterà a migliorare sia la velocità che la capacità stessa di intervento efficace per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini. Un protocollo d'intesa importante quello di oggi, che vede la partecipazione in prima linea dell'esercito italiano ed è già questa una garanzia. È molto importante perché noi vogliamo continuare a mantenere con questa amministrazione, con la regione, dei rapporti importanti, che sono dei rapporti importanti storici. La presenza dell'esercito italiano dentro la regione Abruzzi è da sempre garanzia, garanzia di avere un presidio, garanzia di avere un aiuto nel momento importante, garanzia di avere qui dei reparti, in particolare il nono reggimento alpini che porta nel mondo il nome dell'Italia e il nome dell'Aquila. Per quello che fa, benissimo. È un accordo molto importante per la protezione civile regionale che sancisce la collaborazione già ovviamente esistente ma comunque la rinforza con le componenti operative dell'esercito italiano presenti in Abruzzo e in particolare ovviamente con il nono reggimento alpini. È un accordo che prevede un programma di addestramento comune ma finalizzato sostanzialmente a un intervento operativo pronto e anche alla definizione di un percorso di allertamento delle forze che sia il più snello possibile e il più rapido possibile. Questo per rispondere ovviamente a esigenze di protezione civile che ci auguriamo non esistano ma che sappiamo purtroppo che in un territorio fragile come il nostro potranno avvenire.